Ciao a tutti, sono Sammy e vi do il benvenuto a questo let's play che riguarda Call of Duty Modern Warfare 3. In pratica ne ho approfittato di due giorni di Game Free che ha offerto Steam in promozione del gioco e perciò ne ho approfittato mezza giornata facendo 3-4 partite veloci per vedere cosa dava questo gioco. Ed eccoci partire con la prima partita, modalità Deathmatch a squadre. Come al solito io utilizzo l'assetto assalto e quindi adesso mi faccio shottare come una vecchia merda. Vabbè non faccio manco vedere come l'ho subita la kill perché tanto era abbastanza intuitiva la cosa. Allora, già da subito la cosa che noto è che comunque i movimenti, la meccanica di gioco è un po' macchinoso. Nel senso che se si corre in diagonale non è così sensibile come altri FPS che ci sono in giro in questo momento. La cura grafica è molto bassa e mi sono guadagnato appena adesso una bella kill. Un po' a caso eh, ho sparato tutto il caricatore praticamente per... Spera che mi sottraio per... Sembra calmo. Massacrato dalle palle. Un'altra per me è questa andata. Eh, questo qui mi sa che era solo... E insomma... Sicuramente una cosa su cui i produttori si sono sforzati ed è ora abbastanza... Sadica come cosa. E che si sono sforzati a mettere la telecamera di chi ti killa e quindi visualizzi perfettamente come verrà inciso e come... Come non è sincronizzato esattamente bene il gioco. Ecco, mi scegli un'altra kill di merda. Ricognizione UAV disponibile. Non mi scegli un'altra cellula. Non mi scegli un'altra kill di merda. Non mi scegli di capire. Ma sembra essere massacrato in diretta. La chi l'ha caso proprio Ehi 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 Ci vedo più una sega No Via 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 Laci tu, laci tu Fatemi mazzare tu Il nostro U a V è online Mi ha preso di striscio e manco mirava a me Tiro su l'ho testo lì Eccolo lì Ho un camper qua A posto Faccio un giro dentro la casa Niente, tutto calmo Si sono abbastanza titubante Perché comunque non essendo Abitato a questo gioco Eccolo Potrebbe esserci C'è qualche episodio in cui mi metterò A camperare qualche secondo Per pensare a cosa fare Ehi Un'altra kit per moi Vabbè, sto facendo la collezione Che è? Si, vabbè Ero dietro Ora lo voglio vedere Appunto Sono morto dietro al muro Quando ormai ero fuori dal Raggio visivo Vabbè Vabbè Questo ho fatto un po' schifo io L'ho mirato proprio da schifo E' più il tempo che Passo a respawnare Correre A raggiungere qualche nemico Che alla durata di combattimento Due coglioni Qua non ho manco preso un cazzo Questo ho coperto di trovamolo E' un po' 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 Sì, ho la brutta abitudine Di mirare sul busto O sulle gambe Ma non mirare sulla testa E ciò Molto spesso mi fa rosicare Perché gli altri mi puntano la testa E muoio subito Invece io che punto corpo e gambe E non li tiro giù Vabbè Faccio un giro con la pistolina Vediamo un po' Vabbè Cos'è? Tiro fuori la pistolina E si spaventano tutti? Non c'è più nessuno Basta Finito C'è qualcuno in fondo La mappa di là Però Sono troppi nostri Eccolo Vai Nooo Come ho fatto a mancarlo? No ma sono un po' di merda C'è qui attra- Come si fa a vedere attraverso quelle finestre Dico io Ma lui mi ha visto perfettamente Che cazzo Vabbè Vabbè Ehi Tenero un alto di là però Vabbè Abbiamo vinto Decentemente E ho finito la partita Positivamente con un dc8 Adesso passiamo con la seconda partita Che ho fatto Una mappa cittadina Come al solito Modalità fanteria Deathmatch Come al solito Mantengo l'assetto d'assalto Mitraglia d'assalto Pistolina Una granata Una flashbang E fine Abbiamo preso il comando Qui scadinate Non c'è nessuno Tranquillo Mica un cazzo Tranquillo Eh per forza c'era la porticina Non l'ho cagata Proprio Ho fatto pure la doppia kill Bastardo E vabbè Oh Minchia manco due secondi di spawn E già ti stanno addosso Sti spawn camper di merda Eccoti Eccolo Mio Qua 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 Sì sono abbastanza Diciamo spaventato Cioè nel senso me ne sto rintanato Il più possibile Eh ho raccolto qualcosa Che non so cosa serve Guarda Entra tranquillo Beh Fortuna vuole che non l'ho be Ecco qua C'è qualcuno Vabbè Vabbè Cioè è partito ferito Io gli ho sparato addosso Tanto quanto mi ha sparato lui Ha vinto lui Vabbè Vado a capire ste cose Sempre stesso corridoio Lato opposto Ehi 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 Cioè qui non ho scuse Mi sono fatto killare da dietro Ok perfetto Anzi Non si è capito Un cazzo A parte il mio compagno Che mi ha coperto Straiandosi per terra E sopravvivendo Lasciando muri E comunque Non ho scusanti Del fatto di Non essere riuscito Ad ammazzare quel tizio Che è corso dietro le colonne Ecco qui Mio Ma Ma One shotato Va tutto Disastrato Più nei Pre Ecco Non sta manco guardando da me Quindi A posto E con un altro A posto E con questo Sono due Oii Dove vai? E tre E quattro No Ho finito le ammo No Mi potevo fare pure il quinto Vabbè Giù Ricognizione UAV in attesa Ola C'è sto tizio Mi ha sniperato Con una granata Diciamo Tra virgolette Mazzecca Tempie Eccoti Si si Gira Gira Eh Eh L'ho visto Proprio all'ultimo Sbucarmi da sotto Le scale Eccolo Tutto via Ed è poi E' rimasto parecchio Lì Ah ok Sono stato Ammazzato Da dietro Oh Vai giù Oh La gattina Aia Me l'hanno mazzato davanti agli occhi In chat In chat si insultano Come al solito Vabbè C'è Ah Una cosa che non sopporto Delle community Di Call of Duty Essendo Una delle Più Popolare Eh Questo è intanto il mio E che Ci sono molti hacker E molti Che mancano Completamente Rispetto agli altri Oh Questo Ma proprio Massacrato Da camp Piazzato lì Tranquillo E ribassato Bravo Campera Campera Perciò in un certo aspetto Call of Duty C'è una delle community Peggiori secondo me Ma proporzionale al fatto che Ce ne siano di più rispetto ad altre community Questo strigliato mi si spara diretto Ecco questo fa capire che uno si butta per terra col fucile in mano Non poggia neanche i gomiti Ne niente Si butta di faccia E prende la mira e spara Precisa C'è con precisione Per di più Qui C'è un altro Che non ci arriverà Però abbiamo perso Di poco ma abbiamo perso Vabbè concludo in positivo con un 12-10 dai Terza ed ultima partita Che ho fatto Tra virgolette Perché ne ho fatto un'altra Ma Che ho tagliato per molti pezzi E In corso di partita sono entrato Quindi Non ho fatto granché Eccomi Un solito assetto d'assalto E Boh Procediamo Cercando gente Ho un bel mirino ottico Che mi sta abbastanza simpatico Ehi c'è una Ecco L'hanno già ammazzato Ecco lì Mio 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 No Flash In faccia E non ho più visto nulla Mio Mio Il nostro UAV è online Il nostro AC 130 in volo Vabbè non si... Eccolo Sembra che non ci fosse più nessuno in sta mappa Qua c'è un gruppetto Eccolo Non c'è noia, è bello lontano Eh, fatti vedere Oh la A quanto pare sono salito su per niente Ecco sì, mio Ed abbiamo pure stravinto Perfetto, perfetto Il risultato positivo di 4-1 Ed ora vi propongo delle sequenze in cui ho rosicato come un maiale Detto molto sinceramente E perciò in certe circostanze ho dovuto pure censurare il dialogo Vi ringrazio per la visione E ci si becca ai prossimi Let's Play with Sammy Ciao a tutti Eccoli, eccoli Mio Ed è la prima kill Da subito Ma Eccolo Eccolo Ma sei un figlio di p***a Ecco mio Tutto mio Mio, mio Aia Cioè Ma non ha visto una sega e mi ammazza Oh Gente ovunque E questo Cioè questo mi ha scavalcato con un salto sopra la testa Con tanto io accoltellata Cioè E io manco salto sopra l'altezza di una panchina Questo ha scavalcato un uomo Ma vaffanculo Sniper di merda Cioè pure lo spawn camp Anzi lo spawn kill Eh vabbò Cioè addirittura questo qui Manco zoom ma che già spara In altri giochi mentre zoomi non puoi Sparare Stai poggiando l'occhio al visore Manco guardi e spari Che cazzo serve allora il visore Eh Almeno questo Ma Ma tua madre p***a Figlio di p***a Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Aspirare un attimo, che tanto sanno già dove stai. Vabbè, vabbè, pigliamo sta cazzo di bandiera. Oh, qualche punto in più. Ma porco! Cioè, gli elicotteri in un gioco di fanteria. Cioè, se il gioco è stato concepito con la fanteria, che cazzo ci mettete l'elicottero? Mi serve un cazzo, a parte per i bimbi minchia di merda. Ehm, tu, tu, mio. Aia, 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 aia. E mo' chi è? Osservate con attenzione come il cecchino, senza applicare lo zoom, riesce comunque a sparare tranquillamente. Questo è il camperato. Cioè, tutti gli sniper così giocano. Cioè, una bug abusata, non puoi! Una volta che faccio una, che gli merda, porca p***a. Ti trovi il tizio fortunato che mi finiscono le munizioni prima. Oh, altra bandiera conquistata. Sì, certo. Ecco la skill di gioco. Sto figlio di p***a con il computerino di merda. Ma andasse a morire ammazzato. P***a. Ma sempre con l'elicottero! Sti boc***a di merda! Ogni tanto una kill fa bene. Sì, certo. Sti cazzo di sniper che... Sniperano pure loro nonna. Oh. Un'altra kill, buono. Questo che cazzo fa? Manco sparava. Ma non ha manco sparato! Sti boc***a di merda! Uno che sta al camp dello spawn. Se l'è presa bellamente nel c***o. Porco c***o! Che gioco di merda!